Ma come finisce Anatomia di una caduta? E come è morto Samuel? Ciao, sono Valerio Novara. In questo video cercheremo di capire il finale di Anatomia di una caduta, uno dei film più candidati ai prossimi Oscar, e se siete usciti dal cinema con una marea di domande, state tranquilli perché non siete i soli, e in questo video cercherò di spiegarvi in modo semplice e conciso tutto quello che c'è nel finale del film. Anatomia di una caduta ha vinto già due Golden Globe, miglior film straniero, miglior sceneggiatura, e si appresta a essere un po' la sorpresa di questi Oscar 2024. Ricordiamo che la regista è Justin Tritt e Sandra Huller è la protagonista, scusate per la mia pronuncia dei nomi, ma li sbaglierò tutti, già vi abberto. Allora, come è morto Samuel? Perché poi è questa la domanda, e vi dico subito che in realtà non ci sono prove concrete inconfutabili per determinare la morte del personaggio. Ma andiamo con ordine. Dopo la morte del marito Samuel, Sandra, la moglie, è la principale sospettata. L'uomo viene ritrovato morto ai piedi di questa casa, grande casa in montagna, che aveva questa famiglia. L'unico testimone attendibile, diciamo, è il figlioletto, che però è ipovedente, dall'età di quattro anni. Sandra diventa la principale sospettata, anche perché era l'unica che era in casa quando il marito è stato ritrovato morto. E fin dall'inizio si prova a puntare sulla tesi del suicidio, anche se lei non è molto convinta. Ma il suo avvocato dice che è l'unico modo, anche perché se non puoi provarlo, ti accuseranno e verrai imprigionata tu. Quando il tribunale però viene portata una chiavetta USB con una registrazione audio in cui si sentono i due litigare, la posizione di Sandra peggiura e il figlioletto, alla fine, con una testimonianza shock, è l'unico a salvarla. Ma perché Daniel, il figlio, ha cambiato la sua testimonianza due volte? Inizialmente il figlio aveva detto di averli sentiti discutere mentre stava per portare a spasso il cane. Se lo ricorda perché i diversi nastri adesivi che il padre aveva posizionato nelle varie zone di casa lo aiutavano a orientarsi col fatto che era ipovedente. Quando la polizia però cerca di ricreare le condizioni che c'erano quando il marito di Sandra è stato trovato morto, Daniel cambia la sua versione dicendo no, mi sono sbagliato, il nastro che avevo toccato era all'interno della casa, quindi all'interno della porta principale, e il poliziotto dice ma come hai detto che te le ricordi bene, sono il tuo modo per orientarti in questa casa, perché hai cambiato versione? È del tutto possibile che si fosse confuso, ma lo spettatore può anche pensare che stesse comunque, cercando di proteggere sua madre, cambiando la sua versione dei fatti. Daniel poi in tribunale cambia la sua testimonianza basandosi sul fatto che il cane avesse mangiato il vomito del padre in cui c'era aspirina e quindi una tesi a sostegno del presunto suicidio del padre. Solo che anche qui è una tesi che ci lascia un po' perplessi, anche perché Daniel prima chiede alla madre di andare via di casa nel momento prima di testimoniare e poi fa addirittura l'esperimento sul cane facendogli ingoiare tantissima aspirina e facendolo sentire male, proprio per vedere se avesse reagito come aveva reagito il padre quando si era imbottito di aspirina. Ma passiamo a questa famosa chiavetta USB in cui c'è l'audio che peggiora la condizione di Sandra quando viene portato in tribunale. Nell'audio si sentono i due litigare violentemente il giorno prima della morte del marito. Ebbene, allora, da questo punto di vista ci sono due strade. Come dice Sandra, è possibile che il marito abbia provocato la discussione per registrarla e quindi per ispirarsi per scrivere uno dei capitoli del suo nuovo romanzo. Ma se fosse stata lei ad ucciderlo, questa sarebbe una delle prove più schiaccianti del fatto che Samuel, avendo capito che la moglie voleva ucciderlo, ha voluto registrare per inchiodarla e quindi per farla arrestare dopo la sua morte. Spostiamoci un attimo al finale, quando Sandra rimane con Vincent l'avvocato dopo la cena che hanno organizzato per festeggiare il fatto che sia stata assolta. Sandra dice, in genere c'è una ricompensa per chi vince, ma mi sento vuota. Certo, evitare una condanna è sicuramente la miglior ricompensa, ma se lei è innocente adesso deve affrontare il suicidio di suo marito. Anche perché non era d'accordo con la tesi che aveva ipotizzato e aveva suggerito l'avvocato inizialmente di dire se è suicidato, quindi dell'ultimo anno in cui Samuel era stato depresso e che aveva fatto i conti con l'ansia e la depressione. Ma se Sandra ha davvero ucciso Samuel, adesso deve convivere con questa bugia per tutto il resto della sua vita. E non solo lei, perché nell'ultimissima scena, quando abbraccia il figlio sul letto, vediamo che questa bugia, se fosse una bugia, adesso la porta anche Samuel, che ha addirittura cambiato la sua testimonianza per scagionare sua madre. Non esiste però una spiegazione chiara per ciò che è avvenuto, ed è anche questa la bellezza di questo film giallo thriller. Anche perché noi non sapremo mai come è morto Samuel e se è stata Sandra, anche se pare difficile pensare che possa averlo spinto di sotto. Però, certo, gli schizzi di sangue trovati sul capanno sotto casa fanno pensare che sia stato effettivamente colpito con un oggetto contundente prima di cadere. Poi c'è la testimonianza chiave di Daniel, che cambia due volte la sua versione dei fatti, chiede a Marge, ma che devo fare? Secondo te che devo fare? E la donna, la sua tutrice nel periodo del processo, gli dice, no, devi prendere una scelta. A volte devi solo scegliere quale strada intraprendere. E quindi non sapremo mai se quella di Daniel è stata una scelta per proteggere la madre e per non perdere quindi anche sua madre, oppure se è vero che la memoria è fallibile e quindi non si era ricordato bene nel momento in cui è avvenuto l'omicidio quello che era successo e soprattutto quello che aveva sentito. Insomma, alla fine di Anatomia di una caduta abbiamo solo storie parziali e mozzate, ed è la regista che lascia allo spettatore il modo di riempire gli spazi vuoti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, seguiteci su Facebook, Instagram e TikTok, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie TV. Al prossimo video!